In Italia abbiamo una mentalità aperta. Sappiamo che l'arte di costruire belle macchine è apprezzata anche altrove. Quindi rispettiamo nomi come Jaguar, McLaren, Aston Martin. Non c'è gelosia, siamo fratelli. Sappiamo che anche altri sono attratti dall'aerodinamica. Si perdono nei misteri del rapporto potenza-peso o si addormentano. Sognando la coppia. Ma per piacere, ripetite dopo di me queste parole. Lamborghini, Maserati, Ferrari. Ripetite, dai. Ferrari. Ah, il cavallino rampante della scuderia Ferrari. Lo sentite? Sentite risvegliarsi l'animo italiano che è in voi? Prego, entrate. Benvenuti nel nostro mondo. Fatevi conquistare dalla velocità made in Italy. Fermatevi sulle piste e lasciatevi affascinare. Questo è il Gran Premio d'Italia. Monza vi attende.